In occasione del giugno triestino Alla presenza dei duchi da Osta mentre le musiche intonano gli inni della patria tra la commozione della folla con rito semplice e solenne da bordo del motovegliero Nettuno viene lanciata in mare una corona di alloro della lega navale a celebrazione della storica gesta di Premuda e a ricordo dei caduti del mare nella grande guerra Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!